Calendario degli eventi estivi grandi firme per il comune di Francavilla al Mare che dopo il boom di presenze dello scorso anno punta a replicare anche nel 2016 De Gregorio ed Elio e le storie tese i due nomi di punta per quanto riguarda gli appuntamenti musicali ma nella stagione estiva francavillese ci sono anche tanti appuntamenti con la cultura e lo sport L'estate 2016 in crescita, ci saranno gli Art Wind & Fire, ci sarà Raff, ci saranno Elio e le storie tese ci sarà Maurizio Battista, ci saranno insomma tanti nomi di rilievo Francesco De Gregori, me ne dimenticherò veramente tanti perché abbiamo un'estate piena, ricca di appuntamenti come abbiamo abituato a vedere i nostri turisti Gli eventi sono sparsi su tutto il territorio, quindi Francavilla ha una caratteristica di essere una città di 7 km quindi ad esempio, tanto per fare un esempio, il 1 agosto il concerto degli Art Wind & Fire si farà qui in piazza Sant'Alfonso dove ci troviamo in questo momento, Francesco De Gregori in zona sirena e così via eventi dislocati su tutto il territorio, è chiaro che la riviera la fa da padrona perché la zona maggiormente antropizzata è quella frequentata, abbiamo il nostro mare